Ciao a tutti, sono Mariella, lavoro a Wonder Park e saremo presenti con uno stand gastronomico alla Toscana in Botta. Presenteremo in questo stand due primi piatti e un piatto squisito della nostra tradizione toscana che è il panino con la frittata. Pensiamo che i nostri bambini debbano riprendere in mano e mangiare soprattutto questo panino con questa frittata buona e sostituirla alle merendine che tante volte noi le diamo per andare a scuola o per andare in giro o per andare a fare un picnic. Vi aspettiamo numerosi a Toscana in Botta e qui da noi a Wonder Park. Grazie a tutti.